...di lingua italiana. Oggi ricordiamo con gioia una delle 18 apparizioni della Madonna Bernardetta Subiru. Vi invitiamo a fare il cammino del Giubileo. Per qualsiasi informazione rivolgetevi al centro di informazioni o alla porta di San Michele. Queridos peregrinos della lingua spagnola, oggi celebramo il anniversario di una delle 18 apparizioni della Virgen della Bernardetta. Per questo vi invitiamo a fare il cammino del Giubileo. Per qualsiasi informazione rivolgetevi al centro di informazioni o alla porta di San Michele. Dear English-speaking pilgrims, today we celebrate one of the eating apparitions of the Blessed Virgin Mary to Bernadette Subiru. We also invite you to take part in the Giubileo. To do this, you can meet at the information center or at St. Michael's Gate. I will be腹 central e SHIELD. Grazie a tutti. 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 Grazie.